È la prima volta che vengo a Visso e per me è una cosa molto importante per due ragioni. È la prima volta da ministro innanzitutto nel cratere del terremoto. Questo vuole essere un segnale di attenzione anche a distanza di anni di una che è una ferita, è un cantiere del nostro paese. Si inizia ad a Visso la visita di Alberto Bonisoli, ministro dei Beli Culturali nel cratere sismico, è stato passeggiata nel cuore storico ancora a zona russa, accanto il sindaco Pazzaglini che gli racconta i fasti di questo scrigno sibillinico, la grande scuola penninica, come la collegiata in corso alla messa in sicurezza. Visso vuole essere per me un esempio di tutti i borghi, e ce ne sono tantissimi, molto belli in Italia, che sono danneggiati, che meritano ognuno un'attenzione speciale. Noi qua ci siamo, ci saremo, quello che è successo riaccadrà, dovremo imparare a gestire queste situazioni. Riconosce Bonisoli ciò che è stato fatto finora, non solo dice la tutela del passato, ma anche la costruzione del futuro, come aggiunge le tante iniziative di promozione turistica della Regione Marche, e chiude con un consiglio. Possiamo fare di più, certamente. Ad esempio, venendo qui ho visto che ci sono, non so, delle piazzole camper, no? Cioè, sa, questo tipo di turismo, ecco, magari questo potrebbe essere un'iniziativa da promuovere in futuro, anche per far vedere direttamente agli italiani che cosa sono questi territori e di che cosa hanno bisogno.